Ah, vuole piccare Trandol? Pensa che io sia Full Tank Scarnet Venga, venga Cos'è il mezzo di Duck? È fortissimo, Oito Oh no, è veramente forte Grazie per il follow darts, benvenuto caro Questo potrebbe essere un video per YouTube Potrebbe essere un bel game Perché non sai ancora che andrò 08 Oh shit, non ho lei Veramente fa late in vid con Trandol, sto tipo Ah, come on, late in vid con Trandol, veramente No, rip botting Ah, shit Brutto, che hanno perso due di... È, ha failato Raghand come al solito Home away Questa è morta Lol, Conqueror o Rihanna Ah, io top sono... Quel dev è un po' distrutto Ho perso tre wave Non credo che sia una... Eh, no, ho tempato Rihanna, ho seguito il TP Me ne devo stare affanculo, sinceramente, e farmare Tanto sto game non lo possiamo vincere ora, di sicuro, quindi... Qua c'è Nico Questa Oh, era quello, davvero? Wait, veramente ha fatto sta cosa, amico Quindi Covero di qua No, no need flash No, wait, to be honest Ok, ok, ok Non sapevo se avessi flash Quindi meglio non rieschiare Oh Ma perché? That's bad Tu non riesci a ruotare, vero? Ha morto due volte di fila, Varus Pre-skill'im c'è un tp di varus di dietro nice nice got something bel tp 5 kills su rihanna non male bella partita questa è una bella bella partita comunque nico era top non ha la ultimate si l'ha usata con noi prima no la c'è l'ho già usata ah perfetto fine bel champ si si livello 10 by the way neanche all'unici per dire è forte nico si è giocato bene dammi una mano thank you bard è broken bard cos'è bard? è morto è morto è morto è morto non ce l'ho qua rend ma tuvi 4 mesi bicca del fungine che ero ben tornato nico dietro nico nico dietro nico ma quel bard è ma chi è? qui altro la gant chi è? effettivamente qua non mi salverò io mi sa oh no, ho scelto di nuovo oh no ho ucciso uno v1 tre bot questo muore non ha da ulti bella copia come on posso avere una Yulkin alleati? abbiamo un bisogno disperato di farmare ma non abbiamo una lane che ci push addosso c'è chi è l'erica non mi stanno guardando ziggs tolto le heraldi di mezzo ok can we baron? siamo un po' low c'è Orianna è morta forse oh hog hog you fengo d'occhio te nice work ok varus ha preso 8 kill di fila credo la 0-4 welcome back nice ma si tanto io sto game lo devo giocare per sacrificarmi per ingaggiare e fare i kill no no vabbè si allora gioca bene meccanicamente il tuo tempo io gioco bene meccanicamente il mio possiamo vincere abbiamo Nomans che può fare da carry e l'add carry che può fare da carry dobbiamo solo giocare bene noi io sono due livelli sopra trundle comunque è meno Renekton per sembra lo grosso Renekton è qua questa è Nico Renekton è qua mamma mia raga non credo che possiamo entrare là perché non ha la ulti? non lo so ma non possiamo entrare là boh era una kill su Renekton quello però non aveva la ulti raga io devo andare a clear a top dobbiamo prendere questa torre? non posso eh Renekton è ancora qua sono fine sono fine potrebbero ruotare da testa attento certo guarda adesso 1v9 cioè arrivo pure io nice vado ah boh è ward cioè nel senso mi va anche bene che mi divano così cioè ma che cazzo me ne prega me però per ser baron magari senza Nico questo è ziggs senza ziggs ok questo è un problema ah varus non ha fluato forse no nice jk io vado per il baron ok nice ok nice we can baron go 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 c'ho due livelli di smite sopra ma non credo che possa entrare togli la ping thank you ping hanno back occhio occhio Renekton giriamoci eh occhio ora occhio ora occhio ora bello sto game veramente bello da giocare io dopo ci sono per Sam mi sto facendo prendere da sto game che è bellissimo però ci sono no tiro l'occhio che va bene vado ok andermine troppi Sì, troppi Comunque secondo me Scarlet ha questo elo, è molto forte come campione C'è, hai un team che può far danni per te Cioè, queste cose che vuoi fare sono veramente duro Oh my god Mi ha annullato lei La sua bombettina mi ha annullato lei Avevo fatto il flash Occhio a Nico È un altro drago No, questo non glielo possiamo lasciare Eh, ma non abbiamo il support Allora 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 non morirò abbiamo preso il drago ok, nice ok ora non morire va bene meglio così che morire gli altri si no 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 va bene va bene basta che non possono fare il baron loro tu c'hai il tp vero? si? perfetto eh ma 40 secondi mi sa che se lo fanno io sono up tra 20 dipende quanto tempo riescono a stallare i nostri alleati non credo che ci provino cioè Orianna è super low senza mano al tp no non hanno ricollato subito non ce la fanno Ragan muore da bard però nevermind muore da bard è stupido ok Ragnhackton non c'è vado a forzare bellissimo bellissimo avete un tp dietro avete un tp dietro oh shit sei morti tu ziggs è morto cioè wait abbiamo fatto tipo abbiamo perso quel fight how? come è morto Varus? non lo so è stato uno shotato da ziggs mi so gg oh shit 8 secondi Varus ma non penso ce l'ho no ce l'ho fai nice try peccato non aveva senso fare più danno qua Riccardo non sono io il carry in questa partita non devo neanche essere il carry devo solo fare utile l'ultimo fight era super good ma abbiamo perso perché credo che Varus sia stato one shotato da ziggs completamente lo vorrei io bella partita comunque meno 12 adoro il matchmaking gabbe è stato un piacere ciao caro